Una donna bellissima tra la folla della Medina di Ravatt, la stessa donna a Roma, a Firenze, a Assisi, a Orvieto. Il suo nome è Ruth e in arabo significa anima. E forse il segreto di questa donna è racchiuso proprio nel suo nome, un simbolo, un sogno, una preghiera. Ma ciò che significa davvero per il protagonista, che si sta riprendendo dopo un terribile incidente, si scopre a poco a poco, insieme con il valore inconcettabile dei ricordi e la forza invincibile della speranza. Una stupenda allegoria della vita e della morte. Il romanzo più bello, più tenero e sconvolgente di Giorgio Saviane.